Al di là del risultato, al di là dei tre punti persi, la Luparense vista in campo contro l'Adriese ha vinto la sua partita per l'atteggiamento e la mentalità messa in mostra. Un approccio che non è bastato per spuntarla contro i Rodigini, anche per via di qualche decisione arbitrale discutibile, soprattutto nel finale. E così il presidente dei Rosso Blu, Stefano Zarattini, non ci sta e alza la voce in difesa non solo dei suoi Lupi, ma di tutte quelle società che investono energie e risorse e che, a detta sua, meriterebbero una classe arbitrale molto più preparata. Purtroppo oggi tutti commenteranno il risultato, ma questo risultato di 3-1 è assolutamente bugiardo, in quanto l'hai detto tema, non lo dico io, lo dicono tutti i tifosi che erano presenti allo stadio. Noi non possiamo essere bersagliati da queste decisioni arbitrali scandalose nei nostri confronti. Io sono sconcertato oggi nel commentare la partita di oggi, dove al diciottesimo e al primo tempo una partita ad alta classifica come questa ci lasciano in dieci e dove in due occasioni non abbiamo avuto due rigori credo netti. Credo che una società deve essere salvaguardata per gli sforzi che fa. Noi mercoledì a Cartigliano un rigore netto non ce l'è andato sull'1-1, a Chioggia un rigore netto anche là non ce l'è andato e potremmo vincere. Purtroppo a noi ci mancano dei punti e devo dire che le società che investono, le società che fanno i sacrifici, la prima e l'ultima di tutti i campionati dovrebbero essere salvaguardate da una classe arbitrale credo migliore. Io assolutamente era dei tempi del calcio a 5 che tu conosci bene che non mi sfogavo. Ho portato pazienza a Chioggia, ho portato pazienza a Cartigliano, oggi non posso più portare pazienza e devo dire che alla fine un presidente come me, una società come la nostra che ha 30 anni di storia potrebbe anche stancarsi di stare in questo mondo perché vediamo dei sacrifici, non parlo di investimenti, parlo di sacrifici, passioni e tempo che mettiamo tutti noi dirigenti tutti i giorni, tutte le settimane e poi venire al campo ad essere anche trattati in questa maniera. Ma io non dico della luparenza, io dico per tutti. Ci dovrebbe essere forse, e non credo alla mala fede, una classe arbitrale migliore e che in certe occasioni, io ho visto l'arbitro oggi non aveva il coraggio di dare un rigore perché l'aveva già dato la prima volta e ha dato ad amonire il nostro. Allora scusi, cosa stiamo a fare qua? A perdere il tempo? A giocare contro chi? A giocare contro delle decisioni arbitrali che qualcuno non ha il coraggio di prendere. È meglio stare a casa e lasciare spazio a chi forse è abituato a stare in questo mondo. L'altra cosa che posso pensare è, ma non credo assolutamente, che oggi la luparenza possa dare fastidio a qualcuno. Siamo una neopremossa, arriviamo da un campionato, possiamo chiamarla luparenza di miracoli perché arriviamo da tre campionati vinti della prima categoria. Quindi abbiamo fatto la prima categoria, la promozione e l'eccellenza sta vincendo, facendo un miracolo. Quindi oggi noi non diamo fastidio a nessuno, siamo solo qua a giocarci le nostre carte, ma vogliamo giocare a darmi pari con tutti. Altrimenti in questo mondo io non ci sto, perché credo che dobbiamo essere tutte le società, tutti i presidenti, tutti quelli che spendono dei soldi, fanno investimenti, devono essere guardati meglio alla domenica, al mercoledì quando giochiamo e sempre. Grazie a tutti.